cari ragazzi e care ragazze ciao con questo look tipicamente sobrio proprio adatto al Natale già rido voglio rivolgere a voi alle vostre famiglie un augurio speciale dedicandovi un pensiero non un pensiero a caso è una filastrocca del grande Gianni Rodari un autore straordinario per i più piccoli e per i più grandi che si intitola proprio un pensiero pensate che quest'anno noi ricordiamo i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari e guardate tanti anni fa già che cosa scriveva su un marciapiede in mezzo alla città ho trovato un pensiero pieno di serenità mi è balenato in testa come una festa come un raggio di sole dopo la tempesta ho pensato che un giorno allo scoccar del mezzogiorno non ci sarà una casa senza un pane profumato sulla tovaglia bianca di bucato questa filastrocca è tratta da filastrocche per tutto l'anno e cosa ci vuole dire pensate ai tempi in cui ci troviamo ci troviamo un pochettino in tempesta ed allora noi raccogliamo quel piccolo pensiero di speranza troviamolo nel luogo più comune come possa essere un marciapiede in mezzo alla nostra città e aspettiamo che arrivi dopo la tempesta quel raggio di sole che riporti il sorriso a chi in questo momento non ce l'ha a chi ha difficoltà con il lavoro a voi che state sperimentando una esperienza completamente nuova e imprevedibile ecco allora vi auguro un natale con quel piccolo pensiero pieno di serenità ciao tolgo anche gli occhiali guardate ci rivediamo presto ragazzi al vostro rientro a scuola buon natale grazie a tutti